Zia Sky, ma il berretto di Brian non lo metti più? Non mi pare proprio il caso, Easy. Non voglio far arrabbiare Blair, quindi meglio non ammetterlo per ora. Certo che poteva aiutarci a spreparare la tavola. Oh, è la solita principessina. Non ce la vedo proprio. A vivere su un camper, vediamo quanto resiste. Io dico un altro giorno. Io dico al massimo altri due giorni, dopodiché scaperà a gambe levate. Ragazze, state facendo scommesse su Blair. Dai, mia cugina non è così male. Secondo me resisterà almeno altri tre giorni. Secondo me già stasera fuggirà a dormire dall'amica Jenny. La vedremo scappare, correre verso la sua villa. Dai, non è carino fare questo tipo di scommesse. Oh, effettivamente. Anch'io dico un giorno al massimo. Ok, le scommesse sono state registrate. Vediamo chi vince dalla scommessa. Davvero sei contento che io sia qui? Perché non mi sembri molto contento. Blair, ma no, ovvio che sono contento. Dai, sinceramente, sono solo preoccupato che tu non ti possa trovare bene qui. Perché, Blair, dai, non ti ci vedo su un camper. Lo so, ma per te è importante. Insomma, ti piace così tanto. E allora penso che forse ne valga la pena. Mi sacrificherò. No, Blair, senti il mio programma per domani. Ci divertiremo, vedrai. Che cosa hai in mente per domani? Non dirmi sciare, ti prego. Blair, veramente stavo pensando proprio a quello. Insomma, siamo in montagna. Che cos'altro vuoi fare? Forse shopping di montagna. Shopping di montagna? Sul serio? Ovvio, che cosa fai se no in montagna? Compri le cose tipiche nei negozietti piccolini e carini che trovi nei paesi. Questo voglio fare. Ma... E se invece andassimo sulla neve a sciare? E poi dai, quanto ci vorrà fare questo shopping di montagna? Guarda il paesino, avrà tre case in croce. Ma scherzi, Brian? Mi sono informata con Jenny. Lei ogni anno fa lo shopping qui in montagna. C'è un grande centro commerciale. Lo vedi quell'edificio là? Sono quattro piani di negozi. Quattro piani di negozi? Qui in montagna? Esiste una cosa del genere? Ovvio. Quindi domani io ho pensato di partire presto, alla mattina, appena ci svegliamo e iniziamo a fare shopping. C'è un centro commerciale in montagna. Questa è proprio una sorpresa. E quindi sciare no? Niente neve? Brian, l'hai visto come sono vestita? Cioè, ti pare che io possa sciare? Ma anche no. Povero Brian. Zia, stai origliando, non si dovrebbe. Senti, da che pulpito viene la predica, Cherry. Shhh, stai zitta, fresh. Povero Brian. Domani passerà tutta la giornata a fare shopping con Blair. Ma come? Non vuole sciare. Beh, effettivamente, vedendo Blair, sì, posso rispondermi da sola. Ah, e noi? Che programmi ci sono per domani? Io sinceramente vorrei fare qualcosa di diverso. Ho visto che in città c'è il palaghiaccio. Che ne dite di provare? Insomma, io non so pattinare, però potrebbe essere divertente. So che noleggiano anche i pattini, non occorre averli. Assolutamente sì! Idea grandiosa, fresh! E allora domani tutti a pattinare sul ghiaccio? Non tutti. Brian sarà a fare shopping! Ora voglio sentire che cos'altro si stanno dicendo. Ma, zia! Oh! Poveretto! Non li sento più parlare. Che si siano allontanati. Saranno andati a fare una passeggiata romantica. Oh! Ops! Stavi origliando, Sky? Che figura! Diciamo che questa scena l'ho già vista, vero, Jerry? E' zitta, fresh! Comunque, no! Non stavo origliando, ero solo appoggiata. Perché si dà il caso che quella porta sia molto comoda per sostenere la mia testa. Ok, questa è la giustificazione più assurda che io abbia mai sentito. Ok, ora che siamo soli, posso dirtelo. Amico, cosa c'è? Non farmi preoccupare. Lo sai che in questi giorni ti ho visto un po' strano. E te l'ho anche detto. Che cosa ti passa per la testa? È questo il punto, Alec. Io non lo so. Insomma, ho anche dei vuoti di memoria. È come se mi mancassero dei pezzi di giornata. Ok, devi decisamente andare da un medico. Forse questi mal di testa sono qualcosa di serio, Sebastian. Non so se è legato ai mal di testa, forse... Sto solo impazzendo, Alec. È come se non mi sentissi me stesso. È una sensazione assurda, strana e mi spaventa. Sinceramente stai spaventando anche me. Io non so da quando è iniziata questa cosa. Ma è come se stessi guardando il film della mia vita. È come se io non fossi padrone delle mie azioni. Non riesco a spiegarlo. Sebastian, io ti posso accompagnare dal medico. Ci sarà un ospedale qui vicino. Allora, che voglio dire? Che sento di non essermi comportato bene con Cherry. Sono distrutto da questo pensiero perché la amavo veramente. Poi non so perché mi sono comportato in quel modo. Eppure l'ho fatto. Qui c'è decisamente qualcosa che non va. Questa cosa mi sta logorando. Perché io sento di provare qualcosa per Cherry, ma... Poi sento di doverla odiare. Non lo so, è tutto così strano. Ho davvero un caos in testa. Non ci capisco più nulla. Sai cosa penso? Che tu sia sotto stress. Secondo me hai subito un qualche shock. Qualcosa del genere. E ora sei molto stressato. E non riesci a ragionare lucidamente. No, te lo dico io che cosa ho fatto. Ho fatto un guaio con Cherry. L'ho trattata male. Mi sono comportato male con lei. Lei non merita questo. Ma perché me ne rendo conto solo ora? Ma almeno ora so cosa fare. Cosa vuoi fare, Sebastian? Vado a fare quello che avrei dovuto fare un po' di giorni fa. Vado a chiedere scusa a Cherry. E se arriva Jenny, ti prego, coprimi. Dille che sono andato a fare una passeggiata. Oh sì, è proprio ciò che desideravo mentire a Jenny. Quella mi spaventa. Ma fate sul serio. Sul serio la doccia è qui? Attaccata al WC? Ma com'è possibile? Sul serio vi lavate qui? Blair, che cosa ti aspetti da un camper? È già tanto che ci sia la doccia. Va di lusso. Allora vi va bene in questo film? Per me va bene qualsiasi cosa. Mettiamo questo, iniziamo. Veramente si fa tardi. Ok, allora faccio partire. Ma chi è a quest'ora? Chi è? Sono Sebastian, posso parlare con Cherry? Sebastian, devi essere impazzito per presentarti qui a quest'ora. Ma in ogni caso a presentarti qui. No, non puoi parlare con Cherry. Sebastian, zia, chiedigli che cosa vuole. Già, che cosa vuole ora questo? Dopo come si è comportato? Forse è impazzito del tutto? Sebastian, Cherry mi ha chiesto di chiederti che cosa vuoi. Ho bisogno di parlarle, voglio chiederle scusa. Per come mi sono comportato, per favore. Cherry, lo mando via a calci? No, zia, aspetta, voglio parlarci. Cosa, Cherry? Io non gli parlerai più. Questo al quale non si comanda. Cherry, sei sicura? Sì, zia, forse abbiamo davvero bisogno di chiarire. Sebastian, sta uscendo. E Sebastian non mi piace. Sebastian, che cosa c'è? Hai sentito gli altri? Ormai non piaci più a nessuno, per come ti sei comportato. Io ora ti voglio ascoltare, perché beh, c'è stato del sentimento tra noi. Ma per come mi hai trattata, non dovrei neanche essere qui ad ascoltarti. Lo so, Cherry, e mi merito tutto quello che state pensando di me. Perché me lo merito. Ma sono qui per chiederti scusa. No, beh, è già qualcosa. Come mai? Ti sei reso conto di quello che hai fatto? Non so spiegartelo. È una cosa strana da fuori di testa, perciò eviterò di entrare nei dettagli. Ti dico solo che mi sento strano. Sono... Beh, diverse settimane, a dir la verità, che non mi sento me stesso. Ho dei vuoti di memoria e... Ma è come se non fossi io, Cherry. Non so spiegarti, ma è come se quelle cose non le avessi dette io. È come se stessi guardando un altro vivere la mia vita. Ma quello non sono io. Ottima scusa, davvero. Quando vorrai parlarne seriamente, chiamami. No, Cherry, aspetta. Scusami, Cherry, per tutto. Sebastian, mi stai abbracciando. Sì, ti sto abbracciando, Cherry. È che sento molta tristezza dentro di me. Non so perché. Sento di averti ferita quando non volevo. Scusami, Cherry. Ehi, non ditemi che state dormendo. No, Cherry, dici tutto. Sebastian mi ha sconvolto la vita. Di nuovo. Che cosa ha fatto? Prima. Per un attimo mi è sembrato il solito Sebastian. Forse sto solo sognando e mi sto illudendo, ma... Forse è ritornato ad essere quello che era, quello di una volta. Non lo so, mi sembrava sincero. Mi ha chiesto scusa e mi sembrava effettivamente dispiaciuto e triste per tutto quello che è successo. Io, Sebastian, proprio non lo capisco più. Cherry, Sebastian è strano. Tienilo alla larga, dai retta a me. Beh, effettivamente io non mi fiderei. Voi dite. Forse avete ragione. Non riesco proprio a dormire. Blair, invece, si è addormentata subito. Vado a prendere un po' d'aria. Brian. Oh, Sky. Cosa ci fai qui? Beh, ti ho visto uscire. Lo so che non dovrei stare qui perché dentro c'è la tua ragazza, Blair. Però mi sei mancato oggi, Brian. Anche tu mi sei mancata, Sky. E volevo parlarti del test di gravidanza. Insomma, ma non mi sembrava mai un buon momento perché... Sono sempre stato con Blair e poi tu eri con le tue nipoti. Quindi non mi sono più fatto avanti con quella storia. Però vorrei che tu sapessi che non me ne sono scordato e... Vuoi fare il test? Io sono qui. Ah, lascia stare. Tanto non mi pare il caso, sai. Ma Sky, come puoi vivere con questo pensiero? Dai, ci sono io qui. Dentro stanno tutti dormendo. Perché non lo facciamo ora? Togli il pensiero e non ci pensiamo più. Ci sono io qui con te e... Questo mi pare il momento più adatto. Tu dici? Davvero stai qui con me? Sì. Sto qui con te. Dai, fai il test e portalo fuori. Vediamo assieme il risultato. D'accordo. Anche se non mi va poi molto. Aspetto qui, non puoi vivere con questo dubbio. E tanto poi lo verrai a sapere di sicuro. Ci sono cose da cui non si può scappare. È proprio vero. Ok, lo faccio. Io sono qui, Sky. Ci sono. E noi due. È il momento della verità. Non ci credo. No. Come è potuto accadere? Mi è caduto il test di gravidanza e il bici. Ora è inutilizzabile. Sarà pieno di batteri e germi. Brian. Ehi, Sky. Cosa c'è? Hai fatto il test? È positivo. No, ma sono una frana. Mi è caduto il test nel bici. Ma che sciocca sei, Sky. Mi hai fatto preoccupare. Se è solo questo, non c'è problema, no? Ma non ne ho altri, Brian. Era l'unico che avevo comprato. Pensavo bastasse. Ed ora è qui dove lo trovo, un test. Proprio ora che mi ero decisa a farlo. Ah, Sky. Domani io sarò tutto il giorno in quel paesello a fare shopping di montagna con Blair. Shopping di montagna? Mi fa tanto ridere questa parola. In effetti avevo rigliato. Oggi già lo sapevo. Ci sarà anche una farmacia, no? Vado a prendertelo io un test. Davvero, Brian? Però non voglio che Blair sappia questa cosa, insomma. Può rimanere il nostro segreto, per favore. E toglieti il berretto. Sei più bello senza. Ma Sky. Mi ha appena dato un bacio sulla fronte. Come fanno le nonnine. Beh, Sky, ti va di ammirare le stelle con me? Sai, Brian. Da una parte sono contenta per te. Insomma, non mi sarei mai immaginata, Blair, su un camper. Neanch'io dice che lo fa per me. È una bella cosa. Si vede che ci tiene. Già, ci tiene, ma la nostra storia è sempre stata un po' complicata. Vi siamo lasciati e rimessi assieme diverse volte. Sul serio? Come me e Norman. Stessa cosa. Norman sarebbe il padre del bambino. Beh, non che io dica che tu sia incinta, eh. Ma nel caso sarebbe lui il padre del bambino. Già, sarebbe Norman. Era il mio ragazzo. È stato un amore travolgente. Posso dire così. Ma lui lo sa. No, certo che no. E non voglio che lo sappia. Perché correrebbe subito qui. E io non voglio. Si vede che ti ama, no? Sì, mi ama. Ma non è un amore sano. È un amore malato. Che vuoi dire? Che cosa significa un amore malato? È un amore di quelli che non ti fanno stare bene. È un amore malato. Te lo ripeto. E perciò io non voglio più vederlo. Voglio stare lontana da lui. Non deve sapere nulla. Ok, mi pare chiaro che sia una storia che ti ha fatto soffrire, eh. Sì, decisamente. E invece con te mi sento così leggera. Mi sento bene. Beh, tu non sei il mio ragazzo e non so neanche se lo sarai mai. Cioè, non lo sarai mai, ovvio. Hai la ragazza qui. Però mi piace stare con te. Ah, Sky, ci sono così tanti problemi tra noi. Già, davvero tanti. Sarà meglio rientrare. Però, Brian, mi raccomando. Domani fai attenzione. Non voglio che Blair si accorga che stai prendendo un test di gravidanza per me. Mi raccomando. Ragazzi, è tardi. Vogliamo sbrigarci ad andare a pattinare? O perdiamo tutta la giornata qui? Zia, vedo che ti sei rimesso il berretto di Brian. Non avevi detto che era meglio non indossarlo? Hai cambiato idea? Cherry, nessuna pari tuoi. Comunque, Brian e Blair sono usciti di prima mattina. Perciò Blair non è qui a vedere se indosso il berretto o no. E questo berretto è davvero caldo. Né stupendo. È il profumo di Brian. Almeno mi sembra di stare più vicino a lui. Comunque, muoviamoci. Andiamo a pattinare. La zia sembra proprio innamorata persa. Dai, andiamo. Blair, ti prego, aspetta. Brian, cosa c'è? Sarai mica già stanco? Lo so, è difficile da credere, ma non ce la faccio più. Sono già stanco. È un'ora che giriamo per negozi e sinceramente non pensavo ce ne fossero così tanti. Avevi detto il centro commerciale, ma qui è pieno di negozi. Non so come fai a stancarti per così poco. Abbiamo appena iniziato, c'è tutta la giornata davanti. Comunque, io vado, tu aspetta qui fuori. Grazie, Blair, ho proprio bisogno di una boccata d'aria. Però, mentre Blair è nel negozio, potrei cercare una farmacia per Sky. Effettivamente è il momento perfetto. Ok, è piuttosto imbarazzante comprare un test di gravidanza, ma lo faccio per Sky. Zio Sky, hai fatto conquiste, eh? No, c'è, rismettile, non è vero. L'abbiamo visto tutti che quel tipo ti ha lasciato il suo numero di telefono. Potrà anche avermelo lasciato, ma io di sicuro non lo chiamerò. Eh, certo, zia Sky ha occhi solo per Brian. Ehm, Sky, posso parlarti? Guarda, guarda, chi c'è? Ma certo. E scusciamo, è meglio. Qui ci sono troppe ficcanaso. Ehi, io mi faccio sempre gli affari miei, anche con mia cugina Blair. Non mi metto mai in mezzo, sono fin troppo brava. Ma Blair dov'è? Non dirmi che è ancora a fare shopping. L'hai chiusa in un camerino? Oh, Brian, che ottimo piano. No, è andata da Jenny. Le sta mostrando tutte le cose che ha comprato. Ci vorranno ore perché ha svaliggiato tutti i negozi del paesello. Del paesello? Come sei buffo. Senti chi parla. Vedo che ti sei rimessa il mio berretto. Oh, scusami, ne ero scordata. Pensa se mi avesse visto Blair. Ma no, Sky, tienilo. Ti sta davvero bene. Beh, se mi dici così, però... Per me è anche difficile starti lontana, sai? Ne dai, scherzavo. Mi hai preso il test allora? Sì, ce l'ho qui in tasca. Così è il momento. Dammelo. Andrò dietro agli alberi. Non rischio più di farlo cadere nel WC. Ed ora aspettiamo insieme. Aspettiamo. Me la sto facendo addosso. Hai così paura. Sky, affronteremo tutto assieme. Non ti preoccupare. Sei buono con me, Brian. Ma tanto so cosa accadrà. Se il risultato sarà positivo, tu scapperai. A gambe levate. È normale, è ovvio. È giusto che sia così. Siamo degli adolescenti. È una cosa fuori di testa. Pensare a un bambino ora alla nostra età. Ma se il risultato dovesse essere positivo, ossia se dicesse che sei incinta, che cosa hai intenzione di fare? Insomma, te ne andrai da qui. Andrei a vivere con Norman. Di dov'è lui? Di Londra. Te ne andrai. Crescerete la vostra famiglia lì. Non se ne parla nemmeno. Io con Norman non ci ritorno. Certo, dovrei chiamarlo e dirgli che ha un figlio. Dargli questa sorpresa. Ma in fondo è giusto. Dovrei dirglielo per forza. Quindi tu non vorresti comunque ritornare con lui? Sei sicura? Certo, al 100%. Con Norman ho chiuso. Beh, un po'... Lo so, è brutto da dire, ma... Un po' sono contento. Perché vuoi essere tu il mio ragazzo? Che tesoro! Ovviamente scherzo, Brian, lo sei. Sai, per me saresti davvero una bravissima mamma. Lo vedo come ti comporti con le tue nipoti. Certo, sarei più contento per te se ti godessi la tua adolescenza e le tue esperienze. Ma saresti una brava mamma. No, Brian, sei un tesoro. Ehi, il test è pronto. Non ci posso credere. Brian. Vieni qui, Sky. Brian, ora piangerò tutto il giorno. Ci sono io con te, Sky. Ci sono io qui. Brian, sono così felice. Anch'io per te, Sky. Il test è negativo. Perché piangi? Perché avevo tanta tensione addosso? Non ce la facevo più. Togli questo berretto dagli occhi. Sei buffa. Brian, grazie. Questa è la giornata più bella della mia vita. Non sono incinta. Ti darei un bacio. Se non fossi fidanzata. Anch'io ti darei un bacio, Sky. Sky. Ok. Fa nulla. Come ha accettato. Qual è il telefono di vostra zia Sky? Sì. Sta suonando. È un certo Norman. No, tiriamocene fuori, Cherry. Prima che sia troppo tardi. Easy, dovresti sistemare i capelli. Vieni, ti aiuto. Sì, effettivamente non voglio più farmi gli affari di mia zia. Ma è un messaggio. Oh no, l'ho letto. Ma perché? Appaiono i messaggi sullo schermo. Ho letto tutto. No, è io che non volevo. Beh, che cosa c'è scritto? Era un messaggio di Norman. Ha detto Emily. Mi ha detto tutto. Sto vedendoli. Non so che cosa significhi. Basta, mi voglio fare gli affari miei. Significa guai in vista. Te lo dico io. Grazie a tutti.